Una pistoiese trasformata a quella vista al città di Arezzo nel derby contro Yamaranto, una pistoiese vincente e non solo, una pistoiese che dà spettacolo calando il tris ad un Arezzo in serie difficoltà fra le contestazioni e i fischi dei tifosi e a pagarne le spese sarà poi il tecnico Ezio Lino Capuano esonerato subito dopo la gara. Gli Arancioni conquistano tre punti fondamentali in chiave salvezza e questo era l'obiettivo ma ciò che più convince è la prestazione di tutta la squadra. Partiamo da Mungo, uno dei migliori, contribuisce all'autorete dei padroni di casa ed è sempre attivo nelle azioni, passando poi per Petriccione, una regia perfetta per il giovane centrocampista di scuola fiorentina, preciso nell'impostare il gioco della squadra così come Vassallo. Bertotto lo utilizza in posizione più avanzata, esterno di sinistra d'attacco e l'idea è azzeccata. E finiamo con il protagonista del match, il capitano Corrado Colombo. Da lui nasce il vantaggio Arancioni, è lui che poi firma la doppietta che chiude definitivamente la pratica. Peccato che non abbia potuto festeggiare come si deve per l'infortunio al polso, proprio in occasione del secondo gol. La pistoiese ritrova anche Davide Sinigaglia, mai visto correre così tanto. È una menzione anche per il numero uno Giannarilli, spettatore per gran parte dell'incontro, ma nelle uniche due occasioni in cui è chiamato in causa si fa trovare pronto, dicendo no nel primo tempo a Mendicino e nella ripresa a Tremolada. Vedendo la prestazione che abbiamo fatto, la mentalità con cui siamo scesi in campo, il risultato, sicuramente una grande prova che ci voleva dopo la bruttissima prova che abbiamo fatto con la Cararese. Sì, sono felicissimo, a livello personale felicissimo perché segnare per questa maglia mi dà un'emozione incredibile, ma l'importante era il risultato per la squadra. Il mister ha voluto radunarci finita la partita allo spogliatoio, ci ha già parlato, ci ha fatto i complimenti, però dobbiamo già pensare al termo. Buona la prima quindi per Valerio Bertotto. Arriva sulla panchina arancione e in pochi giorni gli disegna una squadra a sua immagine e somiglianza, senza sbagliare niente. Tutt'altro che traumatico quindi il passaggio di testimone fra Alvini e l'ex capitano dell'Udinese. Al gioco sterile e approssimativo degli aritini si è contrapposto quello pulito, brillante e propositivo di una pistoiese che deve affrontare le ultime tre battaglie con lo stesso piglio.